Buona domenica dalla redazione di Telemolisi e benvenuti a 7 giorni di cronaca all'appuntamento con il riepilogo dei principali fatti della settimana appena conclusa, manca esattamente una settimana al voto e anche i 7 giorni appena trascorsi sono stati caratterizzati dalla campagna elettorale, una campagna elettorale che di fatto ha paralizzato l'attività del Consiglio regionale che tornerà a riunirsi solo dopo il voto, dopo una pausa di due mesi e non era mai accaduto in passato. Sentiamo subito Pasquale Di Bello. Fumata nera per il Consiglio regionale del Molise, la Sise tornerà a riunirsi solo il prossimo 27 settembre, a campagna elettorale finita accantonando, come se non esistessero, una serie di questioni urgenti come il caro Bollette a decidere lo stop più lungo di tutta la storia politica molisana è stata la conferenza dei capigruppo presieduta dal primo inquilino di Palazzo Daimmo, Salvatore Micone. Nei giorni scorsi dal versante delle opposizioni PD e Movimento 5 Stelle si era levata la richiesta di un Consiglio che mettesse all'ordine del giorno le mozioni presentate rispettivamente dalle due forze politiche, tese ad impegnare il governo regionale sul fronte degli aiuti a famiglie e imprese per sostenere il caro Bollette e la crisi energetica. Nulla di fatto come se la campagna elettorale sospendesse le questioni aperte, fatto reso ancora più grave dall'esempio che arriva invece da Roma, quello di un Parlamento che per un giorno sospende la campagna elettorale e torna a riunirsi proprio per adottare una serie di misure a contrasto dell'emergenza in corso. Come fossero pescherecci gli inquilini di Palazzo da Imo restano invece alla fonda da due mesi un fermo biologico inspiegabile, posto che a crescere sul fondale marino del Molise non è un prezioso patrimonio ittico ma una serie di vulcani destinati ad esplodere il prossimo autunno. Unica strada per imporre una riunione dell'Assise è la richiesta di una convocazione straordinaria che proprio Movimento 5 Stelle e PD possono ottenere sommando le proprie forze. Diversamente considerando che altri due mesi di stop precederanno le elezioni regionali di primavera è verosimile credere che la legislatura sia giunta al capolinea. E dicevamo della campagna elettorale che si appresta a vivere gli ultimi giorni in attesa del voto di domenica prossima. Anche la settimana appena trascorsa è stata segnata da decine di eventi elettorali non solo nelle città ma anche nei comuni più piccoli della regione. In settimana è stata la volta anche di un altro big della politica nazionale. È arrivato infatti a Campobasso il leader della Lega Matteo Salvini. Vediamo. Tappa in Molise per il leader della Lega Matteo Salvini arrivato a Campobasso per la presentazione dei candidati del partito Michele Marone e Rita Colaci al collegio proporzionale della Camera e Alberto Tramontano a quello del Senato. Presenti all'incontro anche i candidati ai collegi uninominali di Senato e Camera Claudio Lotito e Lorenzo Cesa. Salvini prende di petto subito la questione al centro della campagna elettorale, il caro Bollette e la crisi energetica per ribadire che occorrono interventi immediati attraverso uno scostamento di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Le Bollette è incredibile come alcuni colleghi di altri partiti dicano che c'è tempo. Io ogni giorno non solo da Campobasso ma da Treviso, da Milano e da Palermo ricevo messaggi d'allarme e d'aiuto di gente che non ce la fa a pagare le bollette, chiude il negozio, chiude l'azienda agricola, chiude la fabbrica, opera in cassa integrazione. Quindi mettere almeno 30 miliardi adesso per aiutare gli italiani a lavorare, a tenere aperte le fabbriche, i negozi, a pagare le bollette è un'emergenza nazionale. Altro cavallo di battaglia della Lega, la pace fiscale impensabile, dice Salvini, che partano milioni di cartelle esattoriali dopo due anni di pandemia e con una crisi energetica in corso. È incredibile che in un momento di crisi come questa, crisi energetica, Covid, guerra, inflazione, l'Agenzia delle Entrate stia continuando a mandare milioni di cartelle esattoriali a casa della gente. Già il governo in carica potrebbe bloccarli adesso con un colpo di telefono. Uno dei primi punti del programma della Lega è bloccare l'invio di queste strameredette cartelle dell'Agenzia delle Entrate perché la gente non ce la fa. A Giorgia Meloni cosa risponde che ieri ha detto che lei attacca più lei che gli avversari? Aiutarli italiani a pagare le bollette e a lavorare non è una richiesta di Salvini, è una richiesta del Paese e quindi spero che tutti ci diano una mano a farlo. A prescindere a destra e a sinistra, se il negozio in piazza a Campobasso fra un mese chiude perché non ce la fa a pagare la corrente elettrica è una sconfitta per tutti. Quindi io voglio vincere le elezioni col centro-destra, siamo uniti, siamo d'accordo su tutto. Mi piacerebbe che tutti fossero d'accordo anche sull'emergenza nazionale che è il costo delle bollette, che è il costo della luce, che è il costo del gas in attesa che l'Europa intervenga. Ma se l'Europa interviene l'anno prossimo, noi cosa facciamo? Aspettiamo l'anno prossimo e intanto chiudiamo i negozi? Non è pensabile. Idee chiare anche per la principale tra le criticità del Molise. Se la sanità va eliminato il commissariamento e serve un intervento finanziario speciale dello Stato per azzerare il debito sanitario. Non possono essere i molisani a pagare per errori dei decenni passati. Quindi lo Stato, se esiste e deve garantire il diritto alla salute per tutti, un aiuto, un contributo alla sanità molisana lo deve dare e chiudendola anche col commissariamento che non mi sembra che abbia risolto neanche mezzo problema. Poi uno sguardo al futuro, oltre a quella in corso, Salvini apre già la campagna elettorale per le prossime regionali e lo fa recitando un de profundis per l'attuale governatore Toma. Le cose non sono andate nel verso giusto con l'attuale presidente, dice, la Lega non è in questo governo regionale e la prossima volta sarà la squadra del centrodestra a fare le nuove scelte. Ci sono le elezioni in Molise, anche nei primi mesi dell'anno prossimo, abbiamo già le idee chiare, perché mi sembra evidente che qualcosa non abbia funzionato al meglio in questi anni, bisogna anche fare autocritica. Noi abbiamo le idee assolutamente chiare e poi sui nomi sceglierà la squadra, sceglierà il centrodestra al completo. Sicuramente alcuni passaggi dell'attuale presidente non sono stati particolarmente brillanti, mettiamola così, però una cosa per volte. E non solo politica, perché nella settimana che si è appena chiusa ci sono stati anche diversi rilevanti fatti di cronaca in regione, quello che ha fatto più parlare e che ha abarcato anche i confini regionali è sicuramente il caso di Casal Ciprano, dove i carabinieri hanno liberato una donna che sarebbe stata segregata dai suoi parenti per oltre 20 anni in una casa del centro storico del paese. Vediamo. Non vuole più tornare nella casa dove sarebbe stata tenuta segregata per oltre 20 anni e non vuole più incontrare i suoi parenti. Ogni giorno da quando la settimana scorsa è stata liberata, telefona ai carabinieri per ringraziarli. Si trova in un posto lontano da Casal Ciprano, il suo paese, il luogo dove avrebbe subito violenze e soprusi dal fratello e dalla cognata. Lei, raccontano gli investigatori, ha parlato solo quando ha capito che non l'avremmo più riportata in quella casa. Si è sentita liberata e a quel punto ci ha raccontato tutto quello che ha subito in questi anni e ha anche firmato la querela. Questa che vedete alle mie spalle è l'abitazione all'interno della quale si sarebbero consumate le violenze e la segregazione per tutti questi anni. Si trova in un vicolo del centro storico di Casal Ciprano. All'interno vivono il fratello della donna che avrebbe subito le violenze e sua moglie. Ieri appena la notizia si è diffusa si sono difesi, hanno negato tutte le accuse, hanno respinto tutte le accuse. Oggi si sono chiusi nel silenzio. Qui alla porta di casa è un viavai di giornalisti che vengono a suonare al campanello per avere loro dichiarazioni ma nessuno apre la porta, le finestre, le porte sono chiuse. Moglie e marito sono indagati a piede libero con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona. Non sono stati ancora sentiti, avrebbero costretto la loro parente a stare in questa stanza senza riscaldamento. Il paese si divide tra chi crede fondate le accuse e racconta che qualcosa forse non andava in quella casa e chi invece difende i coniugi. È il tempo che non lo ho visto a te, non lo so. Qualcuno diceva che non la faceva uscire la nuova, quella la cognata. Parecchie volte l'ho vista, portava un campanello, lo portava, la mangiavano in campanello, che loro tengono campanello all'ocsut. La portavano con loro quindi. Sì, sì, sì. Adesso ho sentito pure io che stavo chiusa dentro la casa, non lo so perché. Boh, che è vero, quello non lo so. No, ma che dici? Perché tu, ad esempio, dentro la casa della persona non puoi sapere quello che succede, quello che si fa, quello che si fa. Si brucia la pasta, non si brucia, si coce, non si coce. Noi non possiamo sapere, perciò. Per il paese è una brutta storia. Eh sì, certo. Un po' di dispiacere. Tanto. A microfoni spenti qualcuno racconta anche del matrimonio della figlia dei coniugi oggi indagati, celebrato in tempi recenti, al quale partecipò anche la donna che sarebbe stata segregata. Il sindaco Elisio Castelli spiega che sul caso erano stati attivati i servizi sociali, ma chiede prudenza. Prendiamo atto che comunque la signora adesso è stata portata in un centro, che comunque sarà assistita, però noi siamo comunque garantisti, quindi a fronte di un comunicato stampa evitiamo di addossare responsabilità e colpa, anche a tutela della privacy di queste persone, perché sono famiglie che si vedono infangate su quotidiani nazionali. Prima che qualche giudice o magistrato emetta una sentenza o un provvedimento, ritengo opportuno garantire anche la privacy di queste persone. Ma lei personalmente questa persona da quanto tempo non la vedeva? Da quello che so ogni tanto usciva, usciva con la macchina, la vedevano sulla macchina e poi a dette giornaliste andava anche dal parrucchiere, quindi una persona che è segregata in casa per 22 anni forse dal parrucchiere non ci va, però non sono io a stabilire le responsabilità della famiglia. Sono famiglie semplici e vivono in modo semplice, quindi vedere una cantina con dei secchi appesi non mi fa specie, perché magari se vado a una cantina di mia nonna trovo la stessa situazione. E la settimana appena trascorsa è stata una settimana nera anche sul fronte degli incidenti stradali, tre vittime in pochi giorni. Partiamo da Colli al Volturno dove ha perso la vita un motociclista, ce ne parla Valeria Migliore. Tornavano a casa sulle loro moto, padre e figlio, come ogni domenica avevano deciso di fare un giro. In una curva vicino a Colli al Volturno sono caduti entrambi, uno dei due però non si è più mosso da terra. Il poliziotto in pensione di 65 anni, originario del napoletano e con la passione della motocicletta, è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stato l'asfalto bagnato a far perdere il controllo ai due motociclisti. Proprio il fatto di essere caduti entrambi rende la pioggia il motivo più plausibile, ma saranno i carabinieri che hanno effettuato i rilievi a stabilirlo. Sulla statale 158, subito dopo l'incidente, il traffico ha subito pesanti rallentamenti. La circolazione è stata deviata su strade secondarie per quasi due ore prima di tornare alla normalità. Intanto le condizioni del giovane che viaggiava con la sua moto dietro al papà non sembrano gravi. Il 33enne, anche lui poliziotto, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso del veneziale, ma non è in pericolo di vita. Una domenica in famiglia che si è conclusa con una tragedia. Dalla provincia di Siena a quella di Campobasso, con un'altra tragedia avvenuta venerdì pomeriggio a Terminal, un uomo in ciampa finisce in strada e viene investito da un autobus nei pressi del Terminal, bus della città adriatica. Sentiamo Francesca D'Andersa. Non ce l'ha fatta l'uomo di 46 anni, Giovanni Criscuolo, residente a Guglionesima, originario della campagna, che nel primo pomeriggio di oggi è stato investito da un autobus che usciva dal Terminal a Termoli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava per attraversare la strada e sarebbe inciampato finendo sotto le ruote del pullman. Immediato l'intervento del 118, i sanitari da subito, viste le gravissime ferite riportate, hanno allertato l'alisoccorso, ma purtroppo l'uomo è deceduto in ambulanza. Sul posto i carabinieri di Termoli impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica di questo tragico incidente. È molto probabile che sul corpo dell'uomo sarà disposta l'autopsia. E la terza vittima della strada di questa settimana per il Molise è una giovane di Casa Calenda, 19 anni, che però è morta all'estero in un incidente avvenuto in Bulgaria. Vediamo. Una vacanza estiva all'estero con gli amici, la voglia di viaggiare e visitare posti nuovi, ma l'entusiasmo e la curiosità di Angela Pangia, 19 anni di Casa Calenda, è stata spezzata ieri pomeriggio sul confine tra la Bulgaria e la Turchia. Secondo le prime informazioni, Angela si trovava in auto con altri ragazzi e si stava dirigendo in Turchia, ma il suo viaggio è terminato al confine. Le dinamiche dell'incidente non sono state ancora rese note, i genitori, il papà dipendente in pensione della regione e la mamma, titolare di un bar in paese, sono stati avvisati dai carabinieri di Larino, rintracciati dall'ambasciata vulgara e partiti immediatamente per riportare la salma della loro unica figlia in Italia. Una notizia che ha scosso tutto il paese e tanti messaggi di cordoglio affilati ai social per ricordare Angela. Questo è il giorno più brutto della nostra vita, una ragazza dal cuore unico, d'oro, onesto. Ti avremo sempre nel cuore. Con queste parole i giovani di Casa Calenda hanno espresso il loro dolore. Angela, fiore reciso nella primavera della vita, ora tu sei luce, perdiamo una figlia, un'amica, una ragazza splendida, ha scritto la sindaca di Casa Calenda, Sabrina Dallitto, per esprimere il dolore, la vicinanza alla famiglia. Ad esprimere il loro cordoglio anche tutto il personale dell'Istituto Omnicomprensivo di Casa Calenda. E sempre per la cronaca, la settimana si è chiusa con un'operazione antidroga che è stata effettuata ieri mattina, soprattutto nel Basso Molise. Sono state arrestate quattro persone, servizio di Andrea Nasillo. Operazione antidroga dall'alba di oggi in Basso Molise. In volo anche un elicottero. Quattro giovani tra i 20 e i 25 anni arrestati dalla squadra mobile. Due sono in carcere a Fogge e sono di San Severo. Un giovane di Termoli rinchiuso nel penitenziario di Campobasso e un altro di Monte Cilfone è agli arresti domiciliari. Gli ordini di custodia emessi dal Tribunale di Larino dopo un'intensa attività di indagine della mobile di Campobasso. La Polizia ha trovato forza in un sistema di intercettazioni che ha fornito gli elementi più utili all'inchiesta. Non sarebbero mancati pedinamente un monitoraggio costante di ogni spostamento. Il mercato dello spaccio in Molise è rifornito dalla vicinissima Puglia. Ingenti quantità di droga di vario genere sequestrate durante il blitz, partito dalle prime luci nei territori tra Monte Cilfone e Palata, concentrandosi poi verso la costa molisana. senza tralasciare il collegamento diretto con la centrale dello spaccio, la provincia di Foggia, con tutte le sue ramificazioni anche nell'interno del Molise. La settimana che si chiude ha avuto anche un'altra vicenda che ha dominato la crona, che è quella del Gemelli Molise, perché il Tar si è pronunciato sul ricorso che era stato presentato proprio dal Gemelli sul decreto firmato dal commissario Toma per la vicenda di radioterapia. Ebbene, il Tar ha bloccato l'efficacia di quel decreto. Sentiamo. Il botta e risposta tra il commissario alla Sanità Donato Toma e l'amministratore delegato del Gemelli Stefano Petracca. Non ammetteva vie di mezzo, i numeri sono numeri e sul budget da ridefinire per non compromettere il servizio di radioterapia. Il giudice terzo, è il caso di specie, ha giudicato il primo round alla struttura di contrada Tappino. Il Tar ha sospeso il decreto con il quale Toma ha assegnato fondi all'ospedale Gemelli, convenzionato con la Regione, un atto, quello del commissario ad acta, che era arrivato all'indomani dell'annuncio di Petracca di dover sospendere le prestazioni di radioterapia per mancanza di soldi. I soldi non impegnati in alcune prestazioni specialistiche, era stata la soluzione individuata da Toma, diagnostica e oncologia ambulatoriale, erano stati spalmati su radioterapia che, aveva annunciato il governatore, avrebbe potuto continuare a funzionare. Una strada però non condivisa dai vertici del Gemelli che hanno impugnato il provvedimento davanti al Tar del Molise. I giudici amministrativi hanno sospeso la delibera del commissario e rinviato la discussione in Camera di Consiglio al 5 ottobre. L'atto del commissario, hanno scritto i giudici, pregiudica l'attività del Gemelli e i diritti dei cittadini, circa 7.000, che avevano già prenotato prestazioni di ambulatorio. La sospensione generalizzata e indiscriminata di tutte le altre prestazioni di specialistica ambulatoriale, da erogarsi all'ospedale Gemelli a partire dal 19 settembre, paralizza anche le prestazioni dirette a pazienti regionali che non risultino fruibili con tempi appropriati in altre strutture della Regione e la conclusione del Tar. E su questa vicenda, proprio poche ore, il pronunciamento del Tar ha parlato anche il commissario stesso, presidente della Regione Toma, che ha convocato una conferenza stampa per dire la sua su questo provvedimento dei giudici. Vediamo. Nessuna contrapposizione con il Gemelli, con il quale peraltro c'è collaborazione, ma semplicemente la volontà di fare chiarezza sul contenuto del recente decreto del presidente del Tar che si è pronunciato sui provvedimenti adottati della struttura commissariale. Ha esordito così il presidente della Regione e commissario Donato Toma alla conferenza stampa tenuta con il subcommissario Giacomo Papa. E prima di entrare nel merito della vicenda, l'annuncio della riunione del tavolo ristretto in programma il 27 settembre al Ministero dell'Economia e Finanza, a quale parteciperanno i dirigenti di questo Ministero e quelli della Salute. Il Molise chiederà lo sforamento del budget annunciato, poi il chiarimento sul decreto del presidente del Tar. Il Tar dice va bene che voi sospendiate le prestazioni e reindirizziate il budget, noi non possiamo sospendere, e il Tar ci dice di non sospendere, quelle prestazioni destinate a pazienti regionali che siano strumentali al trattamento di patologie oncologiche e cardiologiche. Ma questo è normale, se noi avessimo avuto contezze di quali fossero non le avremmo sospese. Noi, fino al momento del nostro provvedimento, non eravamo a conoscenza delle migliaia di prenotazioni che il Gemelli aveva, di quali fossero, perché non abbiamo l'accesso all'agente. Non avere accesso all'agente è un'azione contro le Gemma. Insomma, a giudizio del commissario, il Tar non ha fatto altro che agevolare il lavoro della struttura commissariale. Questo decreto del Tar ci dà una mano grandissima, quindi dà la possibilità che già avevamo per la verità, ma che adesso non è più eludibile da parte delle strutture, di attingere a questi dati. Non resta dunque che attendere il 6 ottobre, quando si terrà l'udienza a cautelare questi gli scenari prospettati da Toma. Può succedere che la sospensione, così come assunta dal Presidente del Tar, sia confermata. Che poi si deve andare nel merito, ma non ci vuole tempo. Sia confermata. In quel caso nulla cambia rispetto a quello che stiamo facendo oggi. Può succedere che si dica, a seguito di nuovi documenti, può darsi che il Tar dica in maniera definitiva, guardate che una serie di queste prestazioni sono sospendibili e reindirizzabili. E non cambia nulla. Può darsi che revochi la sospensiva a seguito dei dati, ma non cambia lo stesso nulla, perché noi di struttura commissariale non permetteremo che le prestazioni di cardiologia e di radioterapia vengano bloccate. E ovviamente la settimana che si chiude è stata anche la settimana del ritorno a scuola. Mercoledì mattina la ripartenza delle lezioni in tutto il Molise per la prima volta dopo due anni senza delle estrezioni per il Covid. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Si torna tra i banchi di scuola oggi anche in Molise un ritorno diverso rispetto allo scorso anno. Un ritorno alla normalità senza più quelle restrizioni che negli ultimi due anni hanno condizionato la vita anche all'interno degli istituti scolastici. Questa mattina volti sorridenti, liberi dalle mascherine, niente più ingressi scaglionati, uno accanto all'altro senza più paura. È l'anno scolastico della ripartenza. Quest'anno speriamo, ci aspichiamo e sicuramente ci sono già i presupposti per vivere un anno scolastico all'insegna di una maggiore serenità e quindi tornare a pieno a tutte le attività che in qualche modo negli anni passati avevano subito delle limitazioni. E già stamattina all'ingresso dei ragazzi ci ha dato la misura di questa gioia, di questo desiderio di ricominciare. Al liceo scientifico Rumita di Campobassi i ragazzi entrano alla spicciolata ad accogliere gli studenti dell'ultimo anno. È diverso ma è bello tornare come prima. Quest'anno siamo più liberi, senza mascherine siamo meglio. Per questo nuovo anno scolastico sicuramente io che devo fare il quinto dovrei studiare di più per cercare di uscire con un bel voto, quindi prendere un bel voto all'esame e sicuramente cercare di trovare quella che è la mia facoltà giusta per l'università. Molti ancora abbronzati per l'estate da poco archiviata, c'è voglia di stare insieme e di ritrovarsi. Vedo che siete felici di tornare a scuola, che bello finalmente. Finalmente è una parola grossa diciamo. Avremmo preferito, salve prof, rimanere a casa, in vacanza. Ma non si può. Che classe dovete frequentare? Il quarto, per fortuna. Ma com'è andata quest'estate? Andata bene? Sì, sì, è andata bene. Rispetto alle altre state è andata meglio. Perché rispetto alle altre state? Per il Covid, si è potuto fare più cose, meno restrizioni pure al mare, più serate. Come tornare a scuola senza mascherine? Potete stare uno accanto all'altro, insomma, è tutta un'altra cosa. Sì, è totalmente diverso rispetto all'anno scorso, il distanziamento, appunto la mascherina. Non avevamo il compagno di banco, invece poi sono ritornato. Ma so che, insomma, molti vengono all'alba per prendere il posto in prima fila. Chi di voi? Tutti, tutto in luna. Tutti. Io mi sono andata alle 6, stamattina alle 6 e mezza stavo già qua. Quindi, insomma, fino a luna oggi mi sa che ti addormenterai sul banco. No, no, no. Con una buona dosa di caffè si fa tutto. Al liceo Galanti, primo giorno di scuola per i soli studenti del primo anno. L'insegnante fa l'appello all'ingresso. Anche gli ultimi studenti sono pronti a varcare la soglia della scuola. Domani toccherà a tutti gli altri. Speriamo chiaramente che vada tutto quanto per il meglio perché davvero diventa poi difficile. Stamattina sono entrate soltanto le classi prime. Sì, solo le classi prime perché sono tantissime. Sono nove classi, tantissimi alunni, quindi abbiamo cercato di creare un certo ordine, altrimenti sono veramente difficili poi da gestire. Allora, quest'anno scolastico sembra ripartire all'insegna della normalità. Assoluta normalità. E poi ci sono i più piccoli, tenerissimi, ad accompagnarli i genitori un po' emozionati, fieri, orgogliosi. Le voci dei bambini riempiono di allegrile al piazzale della scuola. Per loro è una giornata speciale. L'anno scolastico può finalmente ripartire e l'emergenza Covid ora è solo un brutto ricordo. Ciao! E in chiusura parliamo di Telemolise perché in settimana è stato raggiunto un traguardo importante. Il canale YouTube della nostra emittente ha raggiunto i 20.000 iscritti. Ce ne parla Tonino Danese. Telemolise, azienda leader negli ascolti nella nostra regione, ha raggiunto i 20.000 iscritti sul canale YouTube, dove è possibile con un semplice clic e una ricerca rivedere ogni notizia filmato, trasmissione che copre un periodo di oltre 10 anni. Più di 15 milioni di visualizzazioni con picchi nell'ultimo periodo, 500.000 in un solo mese, numeri che continuano a crescere giorno dopo giorno, con l'obiettivo di raggiungere, grazie a contenuti sempre più attuali, tempestivi e vari, il numero maggiore di utenti. Accedere a Telemolise su YouTube è semplicissimo, basta solo cliccare su iscriviti e si ha a disposizione tutta l'offerta nel modo più immediato e facilmente fluibile. Ovunque, davvero in un attimo, è possibile ricevere Telemolise attraverso YouTube e le smart TV andando sull'app di YouTube e scrivendo semplicemente Telemolise, facendo dunque la ricerca sull'applicazione si possono rivedere i filmati. Seguire pertanto Telemolise con YouTube è davvero semplice, venendo sempre più incontro con estrema immediatezza la platea di gente, ovunque, che segue e cerca la nostra informazione e intrattenimento da PC, smartphone, tablet e anche in TV, in altissima definizione su un televisore smart comodamente sul divano di casa. Bene, con questo servizio termina sette giorni di cronaca, il ripilogo dei principali fatti della settimana appena trascorsa. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro ancora una volta una buona domenica. Grazie a tutti.